Ciao a tutti, mi chiamo Cristian e ascolto musica hip hop da quando sono alto così. Mi sono avvicinato al mondo della produzione hip hop, seguendo dei tutorial su YouTube. Notando che non riuscivo a fare determinate cose, a raggiungere certe tipologie di suoni, ho deciso di cercare un corso. Mi sono affidato appunto a Simone perché è un ragazzo competente. Frequentando il corso di Simone mi aspettavo di essere un po' più veloce nel gestire eventuali problemi mentre facevo musica e devo dire che le aspettative sono state rispettate in pieno. Se sei appassionato e hai tanta teoria, ma comunque i tuoi brani non riescono a suonare come quelli che ti piacciono, il mio consiglio è quello di frequentare i corsi di Simone. Grazie a tutti.